Il partitone e adesso da Livorno andiamo all'isola del Giglio dove è stato fatto il punto sulle operazioni di rimozione della costa Concordia. È tornato a riunirsi questa mattina all'osservatorio sulla costa Concordia, l'organismo che coordina e monitora tutta l'attività del progetto di recupero della nave naufragata di fronte all'isola del Giglio. Il lavoro della Titan Amicoperi va avanti nel rispetto della crono programma stabilito, sottolinea Maria Sargentini, presidente dell'osservatorio, e al contempo prosegue in maniera costante e quotidiana l'azione di controllo sulla sicurezza da parte degli organismi preposti, in particolare Guardia Costiera e ASL assieme al monitoraggio di ARPAT e ISPRA. Quanto ai rischi di inavvissamento dello scafo, smentisco ancora una volta a nome di tutto l'osservatorio questa ipotesi, ha spiegato Sargentini, i lavori di messa in sicurezza, ha aggiunto, proseguono regolarmente e quotidianamente i sub della Capitaneria, verificano lo stato dell'arrelitto e la corretta esecuzione dei lavori. Prosegue anche l'attività di monitoraggio da parte dell'Università di Firenze sugli eventuali spostamenti dell'arrelitto, che al momento non sussistono, oltre al monitoraggio da parte dell'Università della Sapienza, sulla qualità delle acque e sull'ecosistema marino. Continua anche il rilevamento e l'analisi della qualità dell'aria e del rumore. Quindi, anche sulla sicurezza ambientale, dalla riunione di oggi esce la conferma di un preciso piano di controllo delle alterazioni in corso e di quelle, sia pur lievi, che inevitabilmente i lavori di recupero potranno comportare. Il monitoraggio è minuzioso e i piani di ripristino sono continuamente aggiornati. Per quanto riguarda il trasferimento dello scafo, una volta recuperato, restano aperte tutte le ipotesi, perché sono ancora in corso le ricognizioni per stabilire la scelta definitiva. L'opzione di una sede toscana è quella indicata dalla Presidente Rossi e per la Regione è quella auspicabile, sottolinea Sargentini, ma la decisione dipende da molti fattori ancora imprecisi. Maria Sargentini è anche partecipata ad un incontro pubblico con i cittadini del Giglio, con il sindaco Sergio Ortelli, per fare il punto sulla situazione e rispondere alle domande. Un atto dovuto di condivisione delle conoscenze della situazione, qual è il momento con la popolazione isolana, ha affermato. È essenziale che i cittadini del Giglio, così colpiti da questa vicenda, siano pienamente consapevoli degli sforzi che le autorità e i patti stanno compiendo per superare completamente la situazione di crisi. Una fotografia della Costa Concordia è proprio nel centro della prima pagina di Grossi.